Essere liberi non significa solo spezzare le proprie catene, significa vivere rispettando e valorizzando la libertà degli altri. Articolo 21. Un programma di Lino Polimena. Articolo 21. Ritorna dal 21 novembre in diretta dal lunedì al venerdì alle ore 14.30 su Calabria TV, Canale 13. Articolo 21. Per dare voce a chi non ne ha. Sempre, qualsiasi cosa accada. Per richieste e segnalazioni scrivere ad articolo 21 chiocciola linopolimeni.it